Sono tanti. C'è anche Mario Rossi che ha scritto molti libri per dire che i maestri incarnati hanno ragione solo loro sulla vita spirituale. Commento. Uomini e donne che hanno dato ragione ad un solo personaggio o a diversi personaggi incarnati come loro sono tanti. La meraviglia è che hanno ragione anche loro finché si è nell'illusione della mente.